Lavori con mezzi meccanici sulla spiaggia dove nidifica il raro fratino e una duna sarebbe stata parzialmente spianata. La denuncia arriva dalla stazione ornitologica abruzzese che parla di violazione della delibera di giunta regionale volta alla conservazione di specie habitat. Le ruspe hanno lasciato il segno del loro passaggio nel sito di interesse comunitario Marina di Vasto a sud del torrente Buonanotte nel territorio del comune di San Salvo. In queste località con l'avvicinarsi dell'estate ogni anno si teme che le dune naturali fondamentali all'ecosistema della zona possano essere spianate per far posto a balneatori e grandi eventi. Basti pensare alle polemiche per la candidatura della spiaggia a Vastesi ad ospitare due anni fa il Jova Beach Party di Lorenzo Cherubini che alla fine si tenne a Montesilvano. La spiaggia però non è un deserto privo di vita ma un habitat ricco e vario pinto. Qui crescono le piante annue che trattengono la sabbia permettendo alla spiaggia di sopravvivere senza ripascimenti. Sulla costa inoltre nidifica il fratino euroasiatico, un uccello a rischio estinzione che depone le uova proprio nell'erba tra le dune di sabbia. La delibera regionale quindi vieta la pulizia della spiaggia tramite mezzi meccanici che anzi deve essere svolta a mano o tramite l'ausilio di un piccolo mezzo gommato adatto alla battigia. Le norme consentono tranquillamente di coniugare, dicono gli ambientalisti, decoro delle spiagge, raccolta dei rifiuti e vita animale e vegetale.